La Sicilia è un'isola, la più grande isola non stato dell'Europa, è un confine d'Europa verso l'Africa ed è anche una parte significativa del Mezzogiorno d'Europa e quindi in qualche modo è un soggetto test, un'entità di riferimento della coesione digitale per misurarla. Ecco, in questi anni il governo nazionale, il governo regionale con fondi europei hanno puntato alla infrastrutturazione digitale. Questo è un obiettivo raggiunto perché oggi la Sicilia, grazie al pieno impiego delle risorse europee, quando abbiamo iniziato l'agenda digitale si era spesa un milione e mezzo di euro quattro anni fa, oggi siamo a 320 milioni di euro di risorse impegnate, abbiamo completato l'agenda e la infrastrutturazione digitale della Sicilia. Occorre adesso puntare sulle cosiddette aree grigie, cioè quelle che non sono affidate né al mercato né alla mano pubblica che quindi vanno completate nei prossimi anni, dopodiché avremo l'area più digitalizzata del Mediterraneo. Ma questa, come dicevo prima, è una precondizione. Occorre puntare all'alfabetizzazione, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese, della salute, perché proprio questa prospettiva è quella che può garantire di guardare alla digitalizzazione e al superamento del divario digitale in termini complessivi. La coesione digitale è un obiettivo ineludibile di un'Europa inclusiva e di un'Europa che renda i cittadini europei uguali. Oggi la dimensione digitale è una dimensione assolutamente rilevante per la vita di ciascuno di noi, dal momento in cui si studia, al momento in cui si lavora, alla fase anche delle malattie, al semplice relazionarsi affettivamente con persone care che sono lontane dal luogo in cui si vive. E quindi è necessario guardare, per considerare l'eguaglianza sostanziale dei cittadini europei, guardare al tema del divario digitale e di come esso debba essere colmato. Un primo step essenziale è quello della infrastrutturazione digitale, cioè le infrastrutture su cui corrono i dati devono essere ugualmente potenti, ugualmente dotate perché altrimenti le aree più marginali, isole, aree montane, aree interne, borghi rurali rischiano di essere lontani o con connessioni discontinue. La infrastrutturazione omogenea è la prima base su cui poggiare una digitalizzazione del sistema, ma è una precondizione, occorre poi rafforzare le competenze digitali, rafforzare la capacità dei cittadini di stare in rete attraverso strumenti, computer, portatili, ma anche quello di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati che circolano sulla rete. L'approccio alla coesione digitale è un approccio complesso, articolato, ma che deve guardare all'eguaglianza sostanziale e al principio di coesione, sancito dall'articolo 174 del Trattato europeo.